La unzichera ha rivelato di avere in cantiere una bellissima sorpresa, che si realizzerà il prossimo settembre. . Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini, non vedo l'ora. . In merito alla possibile quarta gravidanza, nella quale molti fan sperano, Michele risponde. Se sono incinta. Vuole la verità? Non lo so nemmeno io in questo momento? Viviamo in relax, succeda quello che deve succedere. . Siamo felici della nostra famiglia, e se arriva un altro bebè è il benvenuto. Se non arriva, va bene lo stesso. È in dubbio quindi che la unzichera, e il marito Tommaso Trussardi, avrebbero voglia di diventare ancora G.E.N.I.T.O.R.I., e le dichiarazioni di Michele lasciano tutti con il fiato sospeso. . Poto Credits Facebook. . 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